Vincenzo Di Pace, segretario originale della CISL di Bari, che anno è stato questo 2014? Sicuramente un anno negativo sotto tutti i punti di vista, per quest'anno abbiamo perso altri tre punti di PIL. Siamo rimasti in recessione noi e Cipro, quindi questa la dice lunga sulla situazione italiana e conseguentemente anche sulla situazione di Puglia e della provincia di Bari. Abbiamo una disoccupazione soprattutto giovanile che ormai è arrivata a livelli da rivolta civile, lasciatemi passare questo termine, perché quando c'è oltre il 50% nella nostra provincia e nella nostra regione di giovani che non lavorano e sono a carico delle famiglie, famiglie peraltro sempre più in difficoltà, questo lascia intravedere segnali che certamente non inducono all'ottimismo. Gli 80 euro dati l'anno scorso e confermati quest'anno non sono serviti a rilanciare l'occupazione e la produzione. Serve ben altro e noi vorremmo discutere con il Presidente del Consiglio per capire tutti insieme cosa ognuno di noi deve fare per metterci del suo e per rilanciare finalmente questo Paese. I numeri di una crisi che non accenna a diminuire sono drammatici. Ormai il sostegno al reddito attraverso gli ammortizzatori in deroga che il Governo e attraverso le regioni ha garantito sino alla fine di questo anno, se non dovessero essere rinnovati perché obiettivamente possono mancare dei fondi, immaginate quante famiglie che sino ad oggi pure in situazioni di precarietà ma hanno avuto un minimo di sostentamento, quante famiglie e quindi quante persone si ritroveranno praticamente senza reddito e senza un minimo di prospettiva. Il sindacato pensa ai lavoratori ma pensa anche ai meno fortunati. Quest'anno dalla CISL 150 pacchi per la Caritas. In un momento in cui le fasce di povertà si allargano sempre di più noi cerchiamo di dare nel nostro piccolo un minimo di contributo.